Ciao a tutti ragazzi, sono Giorno e ben tornati sul mio canale Lelele Eins, zwei, poliziai Lelelele Finché io faccio partire il tutto dall'ultimo salvataggio e dire via la sigla Ben ritornati su Far Cry 3 con un altro episodio, aiutiamo Buck Buck è la caccia del pugnale Lelelele Allora, io direi di andare perverso Ci manca qualcosa da fare qua Ma vabbè, voglio conquistare Questo va a un posto Siamo a 600 metri da quello va a un posto Lo conquisteremo per poter portare più mappa aperta E poi andremo avanti con Buck Il nostro caro amico Buck Questo sia un stupratore seriale di uomini Oppure un mercante di uomini Semplicemente un uomo sessuale Che piace stupratore di uomini Ok, 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 ok E ora andiamo 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 Questa è la possibilità di avantiarsi oppure Adesso accado Qua ci sono i cagnoni mi dispiace farmi male ai cani io sono amante dei cani io sopra andare lì quindi ok i cani non ci inseguono corri fare corri quanto mi piace il mio mouse e la mia tastiera ottimo ok scendiamo di qua stiamo a 300 metri dalla one posto siamo solo che camminando che bello quel posto siamo solo che camminando camminando su questo episodio tanto io schippo tra malutov e granata lo faccio sempre è un vizio no non voglio morire ok ok cioè sinceramente non so che cavolo sto andando vediamo che sono eh no sono un gran bel po' distante sono un gran bel po' distante distante qua dovremo trovare l'autostrada tra poco no seriamente la strada la strada la strada la strada no 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 ecco non sapevo di morire sono un cretino mai piavono i la cretinaggia mi ha proprio addosso mi ha investito e poi vabbè adesso ricominceremo penso attaccato attaccato lo sapevo io attaccato alla torre noi dobbiamo andare qui sai cosa mi faccio trasferire qui così posso andare ai due avamposti velocemente perché sono già 5 minuti di video e non ho concluso praticamente cavolo ok vediamo il piatto sembra che vuole proprio ritmo a calmi di brutto vediamo se non dobbiamo andare dobbiamo andare di là quindi non lo scaricchiamo niente male queste macchine qua uno tigre tigre voi dispiace tigre non l'ho fatta a posta seriamente non l'ho fatta a posta facciamo una corsa come back non l'ho fatta a posta sono entrato in un'area che non ho scoperto non ho pensato che non ho scoperto così a cavolo il parcheggio qua perché mi fa tanto burlo io sono curioso di a 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 pochissimi a 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 linea di tiro a 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 come sprecare cose come sprecare cose come sprecare cose a cataccio conquistato l'avamposto gran riscaldamento sono morto due volte però proprio un grandissimo riscaldamento riusciamo a a conquistare l'avamposto adesso ottimo ottimo c'è ancora un avamposto qui ma ottimo io direi di andare a prendere quella 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 torre che chi ha le palle io non ce le mostro a allora sono arrivato oh questo ha una capanna una capanna avunque qualcosa questa cosa sia il cesso è il cesso c'è ma c'è ma c'è ma senza imprecare ok senza imprecare ok senza imprecare devo andare di qua o di là io direi di andare di là perchè c'è c'è una festa ma non mi invitano no andiamo di qua sono indeciso questo video secondo me questo video farei big like così al random proprio la gente entra mi piace senza neanche guardare oh c'era un cane in questa zona ci sono i cani aggressivi selvaggi ok ok non la vedo ma che adesso muoio me lo sento che muoio però a me piace il rischio mi piace proprio il rischio mi piace rischiare che cazzo di animale era? bah no facciamo 200 metri curiamoci perchè abbiamo una ferita vedi non puoi essere conficcato ah eccola la non così così mi sa che sono morti tutti e due mi dispiace ragazzi proprio così prendiamoci i proiettili proprio in questo video di 20 minuti dove non faccio nulla e che caricherò esattamente domani credo domani sì oggi alle 15 come come dicevo sulla mia pagina facebook o instagram uscirà il mio video e che ca... la mia camera ok quindi questo video lo caricherò domani e lo chiamerò come non fare nulla sul far try 3 bisogna essere bravi sì a fare le missioni ma anche bravi a non fare nulla eh adesso mi volevi dire eccolo cercato ma perchè non si blocca mi tocca saltare sta diventando scemo c'è chi già lo è c'è chi che lo diventa ma scusate no? devo saltare di là credo? sono un coglione ok ma... ma che cavoletta ma che c'è da sotto? stanno provando i freni a mano? ma che c'è da sotto? ma che c'è da sotto? che cosa sta De Where? che verrà? si incastra perché si incastra Cristo? ok ah ok no perché non me lo dava togliamo la scheda diretta è proprio così scoperto una grotta oh eccolo là un altro super quad allora una puntabilità che sbloccherò con un super sirine che poi ho scoperto una parte della mappa abbiamo un avamposto molto vicino io direi di conquistarlo e poi fermare il video qua non ho neanche ammazzato sono un cretino vediamo che succede allora qui ho conquistato la torre e loro neanche ce ne sono accorti proprio così non so se sia come fortuna i 4 che abbiano poi la difendono magari più avanti magari quando le abbiamo conquistate quasi tutte oddio a momenti muori vediamo quanto siamo non mi trovo ok torri radio 10 di 18 avamposti tanto mi suona il telefono 13 di 34 reliquia 0 non è che una reliquia io direi di cercare un reliquio qua adesso muoio non lo sento ok che culo ok ho un telefono che mi suona quindi ho cercato di rispondere in derby sì per lui che non sta è lì dietro vorrà suonare l'allarme non ci vedo sono in derby ciao ma qua che cavolo sono 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 come le belve qua io con questo coltello non sono proprio legato adesso non ho problema perché non ho un cavolo di colpi non ho granate non ho niente né c4 né niente tu hai fottuto trozzo non mi piace non è così proprio non mi fai paura ma il cavolo la fa male morte al figlio di troia no 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 non hai tempo no no linea di tiro non posso forse al figlio di troia così ho conquistato l'avant posto ma ho ancora dei nemici però così va bene sono scomparsi vabbè sono scomparsi i nemici sono scomparsi i nemici vabbè ragazzi dopo questa botta di culo terminò il video insomma come sempre diventa troppo lungo anche perché siamo quasi in mezz'ora per questo video è tutto un bel pollicione in su se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale ricordate di cliccare sulla casellina per stare aggiornati sui miei video seguitemi sulla mia pagina facebook e anche lì un bel pollicione in su su instagram e su twitter e al prossimo video bella raga ciao 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 ciao